Serata ricca di storia, di emozioni e di soddisfazioni sabato 23 novembre scorso nella Sala San Pasquale presso il bellissimo convento risalente al XV secolo dedicato a San Francesco nel Comune di Lustra. La Proloco San Martino Cilento, in collaborazione con il Centro Culturale Studi Storici Il Saggio di Eboli, ha organizzato la premiazione del concorso nazionale di narrativa quinta edizione Il Novecento in Italia, le nostre storie di guerra, con la presentazione dell'antologia del concorso edita da Il Saggio, a cura di Giuseppe Barra, Antonio Capano e Amedea Lampugnani. È stata anche allestita nella stessa sala la seconda edizione della mostra di Militaria, schegge di memoria, ideata e curata dal dottor Andrea Ricci e dal dottor Fabio Astone, con la partecipazione del maresciallo Giuseppe Materazzo. Numeroso è interessato il pubblico presente, che ha potuto ammirare i cimeli storici dei vari conflitti del Novecento, tra i quali molto apprezzata una divisa modello 34 del regio esercito, appartenuta ad un tenente medico, completa di mostrine, gradi ed onorificenze, ed oggetti rappresentativi della vita di Trincea, oltre ad una sezione documentaria molto ricca, particolarmente suggestive le testimonianze vissute e raccontate dal signor Domenico Cirillo di Perito e dalla signora Concettina Pecora di Agropoli, accompagnata dal figlio avvocato Attilio, che hanno emozionato i presenti. La storia della famiglia Pecora, raccolta e scritta dal giornalista Colodomiro Tarsia, apre i contributi dell'antologia insieme ad altri saggi e testimonianze a cura del dottor Antonio Capano e del Cavaliere Giuseppe Barra, del Maggiore della Guardia di Finanza Gerardo Severino e dell'Associazione Salerno 1943. Nel corso della serata sono stati consegnati numerosi diplomi di merito e menzioni speciali a cura della giuria presieduta dal dottor Antonio Capano. Sono risultati vincitori quarto classificato Claudio D'Agosto di Moio della Civitella per il racconto Una notte da partigiano, terzo classificato Domenico Cirillo di Perito con il racconto Racconto del prigioniero, secondo classificato Vincenzo Di Noia di Torre Maggiore con il racconto Un nonno nei reparti nebbiogeni del Mar Baltico, primo classificato Teresa Miglino Ricci di Agropoli con il racconto Quando un bottone racconta la storia. Ai premiati sono stati consegnati una pergamena ed un bellissimo piatto a tema del maestro ceramista Antonio Guida. La serata è stata magistralmente presentata da Silvio Cossa. Il presidente della Proloco San Martino, Angelo Niglio, nel suo intervento iniziale ha messo in evidenza come viviamo una contemporaneità molto difficile e controversa. Sembra che la storia non abbia insegnato nulla perché da troppe parti si levano parole di odio e di violenza non giustificate e non giustificabili. C'è da sapere che coscienze sane alzino la loro voce in nome di una pace e duratura non contraddistinta da rigurgiti di odio raziale e di millantate supremazie.